Benvenuti su audiofollia.it. Nel cuore della vivace città di Cuneo, un evento musicale di grande rilevanza si prepara a scaldare i cuori degli amanti della musica. Sabato 24 febbraio, dalle 15 alle 18, la rinomata Voice Art Academy ospiterà le audizioni regionali del prestigioso premio Mia Martini. Un'occasione imperdibile per gli aspiranti artisti piemontesi di mettersi in mostra e lasciare un'impronta indelebile nel panorama musicale italiano. Il premio Mia Martini, intitolato a una delle più grandi interpreti della musica italiana, offre due categorie di gara, nuove proposte, aperta agli artisti dai 13 ai 45 anni, e, una voce per Mimi, dedicata ai giovani talenti dai 4 ai 12 anni. È un palcoscenico dove il talento e la passione si fondono per celebrare la musica e l'arte in tutte le loro sfumature. La collaborazione con il premio Mia Martini è un onore per la Voice Art Academy, affermano con entusiasmo dal centro musicale. Abbiamo visto alcuni dei nostri talentuosi allievi emergere nelle edizioni precedenti, dimostrando preparazione e talento straordinari. È un'opportunità straordinaria per i giovani artisti della nostra regione di brillare ancora una volta. Per partecipare alle audizioni, è richiesta l'esecuzione di un brano a scelta, sia italiano che straniero, accompagnato da basi musicali esclusivamente in formato MP3 o dal proprio strumento. La Voice Art Academy offre anche la possibilità di usufruire di un pianista accompagnatore per coloro che ne avessero bisogno, previa comunicazione dei dettagli entro giovedì 22 febbraio. Una giuria composta da esperti del settore e musicisti professionisti sarà incaricata di valutare le esibizioni, garantendo un giudizio equo e imparziale. Sarà un'opportunità unica per gli aspiranti artisti di ricevere feedback costruttivi e, perché no, di farsi notare da importanti figure del mondo della musica. Le audizioni del premio Mia Martini rappresentano non solo una competizione, ma anche un'occasione per celebrare la diversità e la bellezza della musica. È un momento di condivisione, di emozioni e di crescita artistica, in cui ogni partecipante ha l'opportunità di lasciare il segno e di trasformare il proprio sogno in realtà. Non resta che preparare gli strumenti, accordare le voci e lasciarsi trasportare dalla magia della musica. Le audizioni del premio Mia Martini sono pronte ad accogliere i talenti del Piemonte e a celebrare l'arte in tutta la sua grandezza. Grazie per essere arrivati fin qui, vi invito a seguire tutti i social di audiofollia.it, se siete su YouTube, iscrivervi al canale, azionare la campanella, lasciare un like e un commento, qualora abbiate necessità di produzioni musicali, arrangiamenti, mix e mastering, trascrizioni spartiti, idee regalo creative per ogni occasione come canzoni inedite su commissione, potete scrivere attraverso la sezione contatti del sito audiofollia.it, alla prossima!